Benvenuto alla Taverna Friuli Wines Il podcast definitivo sui vini di Friuli Venezia Giulia Sono Wayne Young, l'Ost Bentornati amici di Vini Friulani per la seconda parte di questa bellissima conversazione con Alessandro Pascolo Mi è piaciuto tantissimo questa parte della conversazione Parliamo di uvaggi che secondo me sono molto importanti Ma parliamo anche di come si può capire il valore dei vini nostri qui in Friuli Venezia Giulia Molto importante perché secondo me spesso i vini qui nel Friuli Venezia Giulia sono sottovalutati Allora ti ho fatto aspettare una settimana per la seconda parte Non ti faccio aspettare di più Allora andiamo avanti con questa seconda parte di questa conversazione con Alessandro Pascolo Io a volte un po' diciamo discuto magari con i nostri clienti ristoratori Sì però il vino fare così fare colà perché siamo tutti esperti per gli altri Perché non fai così perché fai meno legno perché fai più legno E io di solito rispondo sempre così per essere molto diciamo Diplomatico Diplomatico ma incisivo Cerco di dire quanti cuochi hai tu in cucina Due, tre, quattro Bene Se tu vuoi o loro vogliono inventare un piatto Possono riprovarlo cento volte in un giorno E codificarlo Il grammo di sale, la temperatura del forno Mezzo minuto in più, mezzo minuto in più Fino a quando non gli riesce bene Tu nel giro di due giorni hai il tuo piatto perfetto Io devo aspettare un anno Posso provare il piatto una volta sola Bello anche in questo paragone Quindi io In questo poi Mi collego sempre con il nostro agno Quindi con il nostro collio bianco Che abbiamo prodotto per la prima volta nel 2002 Partendo da zero Quindi un vino che non avevamo mai fatto Un uvaggio, quindi un blend Non sapevamo con cosa partire Con che uve, che proporzioni Come affinare Avevamo un'idea in mente Ma dovevamo trovare il modo per raggiungerla Ok Ci abbiamo messo vent'anni Pensa a te Cambiando la composizione Cambiando le percentuali Cambiando l'affinamento Sia nell'utilizzo dei legni Sia nelle tempistiche di affinamento In bottiglia Ci abbiamo messo vent'anni Oggi posso dire Che è un vino Che sento sicuramente mio Che ci abbiamo lavorato moltissimo È un vino che anche Viene riconosciuto come un prodotto Di altissima qualità Nel contesto dei bianchi Di rivolgi bianchi del collio Però ci abbiamo messo vent'anni Ma è interessante questo Perché Correggimi se sbaglio Mi sembra che Hai partito con l'idea Di fare un uvaggio E dopo con degli anni Hai fatto ovviamente Piccoli cambiamenti Piccoli aggiustamenti Aggiunto Tolto Questo Però io voglio capire Perché Hai Iniziato con questa idea Di fare un uvaggio Allora perché Negli anni 2001-2002 Io ero un entusiasta Studente universitario Quindi avevo questo Fervore interno Di fare qualcosa Di nuovo Di provare Avevo questa energia Erano gli anni in cui Il Consorzio Collio Stava proprio sperimentando Sul collio bianco Quindi c'erano Degli studi Delle sperimentazioni Sul collio bianco Che c'erano già Su cosa si poteva fare A livello territoriale E quindi Io proprio Veramente sono stato Travolto Da quest'onda Un po' Personale Un po' Diciamo Esterna Che c'era Questa idea Questa spinta Nel nostro territorio E quindi Abbiamo provato Ho provato Banalmente Con un'idea Di fondo Che poi è rimasta Sempre la stessa In realtà Cercare di racchiudere In un vino Le caratteristiche Storiche Migliori Del collio Quindi Cercare Noi abbiamo sempre Lavorato Sui varietali Quindi il toccai Deve sapere Di toccai Il pinot bianco Il pinot bianco Sauvignon Di Sauvignon Il territorio Ti dà quelle caratteristiche E molto neutri Come dicevo prima Sull'uvaggio Invece È un lavoro diverso Perché è un vino Che pensi tu Nella tua testa E dici Che cosa voglio Ottenere io Con questo vino Nella nostra testa C'era quella Di dire Io voglio Che questo Sia la sintesi Di tutto Ok Mentre sul toccai Sappiamo che è un vino Potente Grasso Ma magari Non elegantissimo Non freschissimo Ma ha quelle caratteristiche Il pinot bianco All'opposto Quindi è giusto Che si esprimano Per quello che sono loro In sé per sé Con il loro carattere Sull'uvaggio Invece io vorrei Fondere Tutte queste caratteristiche In un vino solo Quindi avere la struttura Avere la longevità Avere l'eleganza Avere la mineralità Cioè Quelle caratteristiche Che il Collio Ha avuto dall'inizio Da quando Mario Schiopetto Ha iniziato a fare i vini Ok Quindi l'obiettivo Era quello Riuscire a fare Una sintesi Delle migliori caratteristiche Del nostro territorio E quindi Siamo partiti Così A tavolino Abbiamo ragionato E Abbiamo cercato Di mettere giù Con i vini Che avevamo in cantina Quindi col toccai Col pinot bianco Col sauvignon All'epoca Usevamo anche la malvasia Per esempio Che oggi non usiamo più E abbiamo cercato Di Metterci lì Col cilindro Provare A fare gli uvaggi A vedere Cosa succedeva Cosa Cosa saltava fuori E questo è un lavoro Che poi Nel tempo Si è arricchito Di sfumature Nel senso Sì Però lo usiamo Il legno Non lo usiamo Perché Perché I primi Due o tre anni Che I primi due o tre Vendemmi E senza legno Per esempio Era un vino Che si staccava Poco Dai vari etali Non aveva Proprio Quell'impatto Diverso E quindi Abbiamo iniziato A introdurre Il legno Di un certo tipo Prima sul pinot bianco Poi abbiamo capito Che il pinot bianco Non reagiva bene Con questo Nell'uvaggio complessivo Quindi poi abbiamo spostato Il legno sul toccai Poi nel tempo Abbiamo ridotto Fino a togliere La malvasia Poi abbiamo iniziato A imbottigliare Un po' più tardi Affinare di più In bottiglia Adesso negli ultimi anni Abbiamo iniziato A vendemmiare a coppia Quindi non facciamo Tre basi diverse Per esempio Però il pinot bianco Sauvignon Li raccogliamo Li vinifichiamo assieme Poi li assembliamo Col toccai Insomma Ci sono tanti Piccoli dettagli Che nel corso del tempo Una volta all'anno Abbiamo ragionato Ci abbiamo pensato Un anno intero E una vendemmia successiva Se possibile L'abbiamo messa Messa in campo Quindi È un percorso Questi vini Sono un percorso Un vino Diciamo ragionato Ma in senso buono Nel senso che È nato Per esprimere Determinate caratteristiche Con un determinato obiettivo Utilizzando Quello che Hai in casa tua Nel senso Nel tuo vigneto Certo Quindi Io sono Un po' fuori Diciamo Dallo schema Dell'uvaggio Per forza Con gli autoctoni Piuttosto Che Anche se in realtà Io a casa mia Lo faccio Un collio bianco Con gli autoctoni Ma dai Da 2020 La prima annata Uscita L'anno scorso Però È un concetto Diverso Io lì ho voluto Proprio recuperare La tradizione Per esempio Ho piantato la vigna Ho piantato una vigna Apposta Per fare questo vino Con le tre varietà E toccai Esatto Che io raccolgo Come si faceva una volta Tutte insieme Come se fossero un'uvaggio Quindi in realtà Non è Un uvaggio In cui vai a dire Io voglio raggiungere Lì è la vigna Che parla Quindi Quello che si beve È quello Che la vigna L'anno scorso Mi ha detto Quindi non sto neanche A parlare Di proporzioni Perché può essere Che un anno La ribolla Faccia un po' di più Di uva Un po' di meno Quindi io So che ho piantato Le varietà In una certa proporzione Però può essere Che un anno Ci sia un po' più di toccai Un po' meno malvasia O viceversa Però lì Il concetto di vigna Quel vino Si chiama come la vigna Si chiama Piana del rovere Ok Perché la vigna Si chiama Piana del rovere Ok E quindi Non interessa In realtà Mi interessa Fare bene L'uva di quella vigna E raccoglierla Tutta insieme Nel momento giusto Entrerà dentro Quel paradigma Del Del collio di uva Autotono Collio bianco Con Allora Allora In realtà Scusa Allora Con Cristian Parliamo Quando ci vediamo Parliamo sempre Di questa cosa Ma lui mi dice No ma hai già etichettato Tira Vengo io Ti tiro via le etichette Così entri con noi Ma in realtà A me Non interessa Incasellarmi Ok In una determinata In una determinata Fazione Cioè io il vino Lo faccio Perché Credo che sia Un argomento Del nostro territorio Importante Che va Che va valorizzato Sono altrettanto Consapevole Che è una ricetta Che magari Non può andare Magari Non va bene In tutte le zone Del collio Che è fatto Da tante esposizioni Tanti microclimi Quindi non è detto Che quello sia Sempre il vino migliore Che si può fare In ogni cantina Certo Quindi Io da questo punto Di vista Ritengo Che possano Coesistere Sia il collio bianco Diciamo Fantasiosi Sia il collio bianco Classico Storico Uve autoctone Chiamiamolo come vogliamo Perché sono semplicemente Due espressioni diverse Certo Una sicuramente Più territoriale E secondo me Più legata A un singolo vigneto Quindi andare A dire Cioè per me Se dovessimo Diciamo Formalizzare Questo collio Fatto con gli autoctoni Sarebbe importante Che si dicesse Le uve Devono provenire Dalla stessa vigna Interessante Quindi non andando A prenderla Magari su cru diversi Ma proprio perché Se la tradizione È quella Sarebbe quella Però non è detto Che sia sempre Il miglior risultato Ovunque Certo Questo progetto Mi ricorda tantissimo Non so se mai Sentito In produttori In Alsazia Che si chiama Marcel Dice E lui fa Perché ovviamente In Alsazia Tu hai Grand Cru E tutto questo Lui ha Dei vigneti Di Grand Cru Che ovviamente Lì hai Uve diversa Però lui Non fa Dele vigneti Separate Lui fa Una vendemmia Completa Per quel Grand Cru Che lui ha Un etero Due etero E lui Bottiglia Come Grand Cru X E potrebbe essere Anche cinque Vitini Dentro E l'idea È di esprimere Il posto Potrebbe essere Che uno È un po' Meno maturo Un po' Surmaturo Però lui dice Che esprime Quel posto Lì Sì è lo stesso Concetto Che utilizziamo Noi Quindi Ecco che Per esempio Sui due Colli bianco Agno Le Piana Del Rovere Ci sono due Idee dietro Diverse Su uno Dici io voglio Che questo sia Il miglior vino Che posso fare Nella mia vigna Che racchiude Le migliori caratteristiche Questo invece È il vino Più territoriale Ok Quella è la vigna Questo è quello Che mi dà la vigna Sono due idee Due concetti diversi Ma non è che Uno è migliore Dell'altro No Sono semplicemente Due concetti diversi Interessanti Quindi dico Sì con questo Piana del Rover Questo collio Con gli autoctoni Diciamo Noi abbiamo piantato La vigna Nel 2017 2020 è stata La prima La prima annata E usciamo Dopo tre anni Ok Ed è Ed è semplicemente Un vino Che ha il suo Il suo carattere Ma dove è nato Quest'idea Di fare Questo Questo vignetto Allora È nato dal fatto Che noi avevamo Questa vigna Di Quattromila metri Quasi mezzo ettaro Di Cabernet Franc Che volevo Dismettere E quindi Si ragionava Su che cosa Piantare Su quel terreno No È Una posizione Molto bella Ed è Quegli anni Lì Erano gli anni Qui ritorna Sempre il consorzio Poi alla fine Perché erano gli anni In cui si discuteva No Della DOCG Ah Del collio In cui C'era C'era il progetto Proprio del Collio Gran Selezione No Quindi di questo uvaggio Esatto Fatto con gli autotoni Certo Quindi ragionando Su che cosa fare No In quegli anni Gli ho detto La vigna la togliamo Cosa ci pantiamo Piantiamoci questo Ok Potrebbe essere Un bel progetto nuovo Ok Per questa Gran Selezione Esattamente Quindi abbiamo piantato Il vigneto Proprio Proprio Per quel motivo lì Anche se in realtà Io già due anni prima Avevo fatto Una piccola prova Di un collio bianco Fatto solo Con gli autotoni Che ci ha fatto ragionare Poi anche Per l'impianto Del vigneto No Quindi partendo Da un'esperienza Diversa Senza ribolla E Poi siamo arrivati Due anni dopo Sulla base Dell'assaggio No Di questa piccola prova A A piantare Questa vigna Con questo obiettivo Che Nel suo piccolo Ci sta dando Soddisfazione Secondo me È un percorso Lungo Nel senso che Un vino su cui Io devo imparare Tanto Come si diceva Si prova una volta All'anno E non è possibile Che una vigna giovane Al primo colpo Ti dia Il miglior vino Del mondo C'è tanto da lavorare Secondo me È un progetto Un work in progress Importante Però Giusto così A titolo di colore Per esempio La seconda annata 2021 Che uscirà In autunno Quest'anno È comunque Di fatto La prima presentazione In guida È un vino Incoronato Della guida Vini buoni Bello Quindi Seconda annata Di produzione Primo anno Che lo presento In guida Comunque È uno dei vini Premiati Alle finali Quindi Si può solo Migliorare Quindi Voglio dire Tutto sommato Non sarà mica Così male No Complimenti Complimenti Abbiamo toccato Un attimo Su Cabernet Franc Però Di altri rossi Non abbiamo neanche Detto qualcosa In Collio Si può fare Solo uno Due Però Fai anche Un Merlot O fai anche Un Cabernet Sauvignon Allora In Collio Sappiamo Che si può Coltivare Esclusivamente Vitigni francesi Quindi non abbiamo Tazze Lengere Fosco Schioppettino Pignolo Purtroppo Per motivi Storici No Lo sappiamo E Noi Fino a 15 anni fa Facevamo addirittura Quattro rossi Ok Quindi facevamo Il Merlot Facevamo Il Cabernet Sauvignon Facevamo Il Cabernet Franc E facevamo anche Lo Schioppettino Ah In Collio Si Era una piccola produzione Però lo facevamo Perché Quando sono stati Piantati i vigneti C'era un po' La tendenza Ad avere un po' Di tutto Ok Poi Questo è un po' Anacronistico Da vent'anni A questa parte Infatti Una delle prime cose Che ho fatto Quando sono entrato In azienda Ho detto Qui stiamo facendo Troppe cose Dobbiamo concentrarci Su quello che ci caratterizza Ok Quindi dal 2005 Al 2009 Tutti i vini Sono stati vinificati Singolarmente Degustati Assaggiati Valutati Alla fine Ok Schioppettino E Cabernet Franc Abbiamo eliminato Queste cinque varietà Ovviamente Non tutte insieme Perché Altrimenti Ci saremmo trovati Col 30-40% Di vignete in meno Per 5-6 anni Di fila Allora pian piano Quindi pian piano Piccoli lotti Dal 2010 Al 2019 Abbiamo Estirpato E reimpiantato Lasciando Le parcelle Diciamo Incolte Per due anni Per dare il terreno La possibilità Di rigenerarsi Di riposare E quindi Siamo andati a potenziare Quelle varietà Che ritenevamo Essere più performanti Anche a livello Di costanza Quindi più friulano Che oggi È per noi Ricopre Un quarto Della nostra superficie Viticola Ok Pino bianco Malvasia E anche un pelino Di sauvignon Abbiamo Abbiamo aumentato E come rossi Abbiamo mantenuto Il merlot E il cabernet sauvignon Che Per noi Sono anche importanti Anche se facciamo Solo 4-5 mila Bottiglie all'anno Però Proprio perché Sono poche Noi ci teniamo A farle Ad altissimo livello Quindi non Facciamo Diciamo Dei rossi Tendenzialmente Freschi Giovani Ma facciamo Piuttosto riserve Quindi L'unico Diciamo Rosso Non riserva Che produciamo È un cabernet sauvignon Fresco In acciaio Che però Proviene da una vigna Che ha 8 anni Quindi siccome La vigna è giovane La utilizziamo In quel modo lì Altrimenti Con la vigna vecchia Per esempio Facciamo una riserva Che si chiama Pascal Che esce A tre anni e mezzo Dalla vendemmia Col merlot Che secondo me In realtà È il vitigno Principe Del vitigno A bacca nera Quindi quello Con cui si può fare Le migliori cose Nelle nostre zone Facciamo esclusivamente Una riserva Che esce A 4 o a 5 anni Dalla vendemmia E questa forse è stata La bottiglia Che ci ha caratterizzato Prima di tutte le altre Soprattutto in ristorazione Perché è una riserva Che noi abbiamo iniziato A fare nel 2003 Con un affinamento in legno Ovviamente Un affinamento più lungo In bottiglia E mi ricordo che E mi ricordo che fino a Una dozzina di anni fa Noi eravamo Pasquale Ah quelli del merlot Proprio perché è un merlot Wow È diventato così tanto famoso Eh sì Proprio perché è un merlot Comunque Meno friulano Diciamo Meno rustico Rispetto a quello A cui si era abituati Un pochino più Elegante Un pochino più Diciamo francese Per certi versi No Quindi Con un Comunque Con un frutto Bello Fresco Senza erbaceo Con dei tannini Belli maturi Proprio perché Comunque Abbiamo una bella posizione Per il merlot La vigna è proprio Esattamente sotto Il parcheggio Dell'azienda Quindi la parte più alta Più soleggiata Più esposta E Quella vigna Ha un DNA Meraviglioso Veramente meraviglioso E quindi Ha una qualità Dell'uva Molto molto alta E che ci permette Di fare di fatto Una riserva Anche in annate Come la 2014 In cui Non ti sarebbe mai Venuta in mente L'idea di fare Una riserva Con un rosso No E quindi Produciamo Queste due varietà Abbiamo queste due varietà In vigna Come dicevo Merlot Solo esclusivamente Riserva Cabernet Sauvignon Riserva Con la vigna vecchia E fresco Con la vigna giovane Però usciamo Di fatto A parte il Cabernet Sauvignon Fresco Usciamo comunque Dai tre anni e mezzo Ai cinque anni Dalla vendemmia Quindi i vini Che hanno già fatto Un bel affinamento E che hanno Almeno ulteriori Dieci anni Di riposo In bottiglia Abbiamo fatto una degustazione Non più tardi Di due mesi fa Di una verticale Di Merlot Andando indietro al 2004 No Quindi Un Merlot di vent'anni E che devo dire Era veramente Inaspettato Anche per me Quando l'hai fatto? Cosa degustazione? Abbiamo fatto a metà maggio E perché non mi hai invitato? Perché questa degustazione Era stata pensata Per un target Di privati appassionati Ok Però noi Per esempio Colgo al balzo Un po' La provocazione Nel senso Che noi comunque Abbiamo un archivio Di tutti i vini Che produciamo Quindi non solo i rossi Ma anche i bianchi Abbastanza profondo Bravo E quindi Per noi È sempre Un divertimento Una bellissima occasione Avere delle richieste O avere l'opportunità Diciamo Di stappare Bottiglie Anche parecchio Adattate E confrontarci Abbiamo fatto A gennaio Dovrebbe uscire Penso A brevissimo Sull'ultimo numero Che uscirà Di Mangia Vino Quindi rivista Ci sarà una verticale Di Agnul Attando indietro Dal 2020 Al 2003 Ma è un Stoccaggio Che tu tieni Per la vendita O solo Per eventi Degustazioni Solo degustazioni interne O con giornalisti O con ristoratori O per piccoli eventi nostri Quindi verticali Fatte spot Su determinate Etichette Però Non sono bottiglie Disponibili Per la vendita Anche perché Io non ho lo spazio Per tenere Faccio già fatica A tenere Queste bottiglie Per il nostro archivio Figuriamoci A tenerle ferme Per la vendita Come dicevo Noi Dal 2019 Siamo partiti In questo progetto Delle etichette bianche Che sono Queste piccole riserve Diciamo Che escono A tre anni Dalla vendemmia No E quindi Già per noi Diventa Impegnativo Stoccare Duemila Tremila Bottiglie Di queste referenze Per tre anni In cantina Prima di iniziare A venderle Proprio perché Non abbiamo lo spazio fisico Per tenerla Però abbiamo voluto Fortemente Iniziare questo percorso Proprio perché Riteniamo che sia Inutile Continuare a comunicare Che i vini Nella nostra zona Sono vini longevi Sono vini che Danno il meglio Dopo qualche anno Di bottiglia Se poi le bottiglie Adattate Non ce le abbiamo Da dare Ai clienti Quindi è inutile Andare a dire Ai ristoratori Guarda questo vino Lo puoi bere Fra dieci anni Però non lo puoi comprare Ok Quindi è chiaro Che noi il vino Dieci anni Non lo possiamo ottenere Però almeno tre anni Per far vedere L'evoluzione Un po' Che inizia E per dare Anche l'opportunità Poi di mettere In carta Questi vini Comprandoli E mettendoli Direttamente in carta Ci vuole C'è un percorso Che noi abbiamo iniziato Ma penso che Tutti In Collio Dovremmo Collio Collio orientale Insomma Le zone importanti Del Friuli Dovremmo iniziare a fare Perché è quello Che dà valore Ai nostri prodotti Quando esiste Il vino Di qualità Il tempo È il primo parametro Nella valutazione Dei vini Cioè per il vino Importante È quello che dura Certo E se noi Se noi Non spingiamo A questa parte Secondo me Proprio per il discorso Anche di costi Che abbiamo fatto Prima All'inizio Noi non riusciamo A dare il valore Ai nostri prodotti Del valore Che merita Ed è innegabile Che sui vini Freschi Diciamo Di un anno O due Ci sono zone In Friuli Ma non solo Anche di pianura Dove i costi Di produzione Sono molto più bassi Che sul vino Giovane Sono altamente Competitivi Cioè se fanno Fanno vini buoni E quindi un cliente Un ristoratore Perché dovrebbe spendere Magari 3-4 euro Alla bottiglia in più O 5 O 6 O 10 Non lo so Per comprare un vino Che da mettere in mescita Domani mattina Che non ha questa Grandissima differenza Di qualità In quel momento Certo Allora devi avere Allora devi avere Le riserve Dove fai capire Che dove non ci arrivano Gli altri Ci arriviamo noi E quindi Per arrivare lì Però chiaramente Ci sono dei costi E quindi le bottiglie Hanno un costo diverso Ma è giustificato Dal fatto che In quel momento Danno qualcosa Di diverso Secondo te C'è un C'è un problema Dell'idea Del prezzo Che ti dà A un vino E il valore Del prodotto Perché Abbiamo parlato Un paio di volte Di questa idea Che non si può Produrre Qualità Senza un certo Prezzo Sì Sto d'accordo Però c'è tanto Pressione Anche del mercato L'ho sentito Anche le brutte storie Del Qualcuno Dell'Inghilterra Che dice No ma questo Friulano È molto buono Però non posso Spendere più Di 4 euro A bottiglie E l'azienda Che dice Ok Brute storie Però secondo me Tu hai Questo concetto Del prezzo Allora deve essere Forse un prezzo Minimo Per vini Del colio Allora Il prezzo minimo È difficile da fare È difficile da imporre Certo In realtà Perché poi ognuno A livello economico Ha le sue esigenze In azienda Io Posso capire Che Esistano Magari ci sono Spero di no E spero sempre meno Ci saranno delle aziende Che magari per mille motivi Hanno il magazzino pieno E hanno l'esigenza Di svuotarlo Per fare spazio Per le nuove produzioni Le nuove annate Ma magari anche Per cercare di monetizzare O di rientrare In parte Di un investimento Ho fatto Comprando i tappi Le etichette Le bottiglie Due Tre o cinque anni fa Ok No Quindi Esiste Ci può Può esistere Questo problema Noi dobbiamo cercare Di lavorare In modo che Non ci sia più Questo problema Ok No Il proprio modo Di lavorare Che deve Sì Cioè Anche Secondo me Un problema Di posizionamento Delle nostre aziende Cioè Noi dobbiamo capire Stringere i denti E cercare Di non svendere I vini Perché Quando svendi Scendi Nella percezione Della qualità E poi risalire È molto difficile Ed è molto lungo Quindi Piuttosto Che svendere A meno che Uno Non abbia Proprio L'acqua alla gola Io preferisco Personalmente Tenere il vino In casa Tanto il vino Comunque Anche se passa Il tempo Migliora Non è la mozzarella Che domani mattina Scade La butto via Non la posso veder Esatto Se il vino È infatti In un certo modo E io sono convinto Che nel tempo Migliori Piuttosto me lo tengo lì Piuttosto che svenderlo Perché poi Quando ci sarà Quello buono Quello L'annata Non avrò più La possibilità Di vendere Al prezzo che vale Perché se Fino a ieri L'ho venduto a 5 E che l'anno dopo Dico Ma questo è più buono Lo vendo a 10 Lo rivenderai a 5 O a 5 e mezzo Ma sicuramente Non a quello che vale E poi bisogna Fare il conto Effettivamente Di quanto ci costa Fare questi vini E io credo Che tanti colleghi Non abbiano La percezione Di quanto costa Produrre Un chilo D'uva in collio O in collio orientale In collina In generale Dobbiamo considerare Gli investimenti Che abbiamo fatto Per terrazzare I vigneti Per piantare Quanti anni di lavoro Ci abbiamo messo Prima di raccogliere Il primo grappolo D'uva Quanto tempo Rimane fermo Il vino lì Cioè questi Sono tutti Conti Che dobbiamo fare Perché se noi Continuiamo a vendere Sotto il prezzo Di produzione Alla fine Alla fine Non rimane niente Le aziende Si vendono Certo Perché non riesci più A stare in piedi Quindi devi chiedere Quello che vale Il tuo prodotto Deve valere Sia chiaro Il prodotto Deve valere Deve essere fatto In un certo modo Non possiamo dire Ci costa 10 Ma vale 5 Quindi te lo vendo a 10 Ok Se costa 10 E vale 5 E vale 5 È un problema È un problema Sì Se costa Vale 10 Tu devi dire Io lo devo vendere A 12 A 13 Perché se te lo vendo a 10 Io pago le spese Ma come investo Esatto Come mantengo la mia famiglia Se mi viene un imprevisto Come faccio Quindi questi sono conti Che dovremmo avere bene in mente Prima ancora Di andare a mettere il vino In bottiglia Chi ce li dà questi soldi Questo è il problema successivo Ce li dà chi Crede Chi percepisce Il valore del nostro prodotto Quindi noi abbiamo Un problema di posizionamento Cioè noi dobbiamo andare A raccontare i nostri vini Alle persone Che sono in grado Di capire la qualità I nostri vini E sono disposti A spendere quei soldi lì Bravo Questo è Secondo me Un lavoro Che si sta facendo Che va fatto E che si deve fare meglio Quindi Ci sono altre zone Che possono fare i vini buoni A un prezzo più basso Delle nostre E che avranno Allora La loro spazio Sul mercato Noi In quel mercato lì In quello spazio lì Non ci possiamo stare Dobbiamo andare Su un altro spazio Di mercato Esatto Dove le persone Non hanno difficoltà A chiederti Ma perché costa 15 Perché costa 20 Noi nel nostro piccolino Abbiamo sempre fatto Accoglienza in cantina Sono 30 anni Che la nostra porta È sempre aperta Per chi vuole degustare Degustare nel senso Assaggiare Non bere calici Ma chi vuole Scoprire i vini Assaggiarli Visitare l'azienda O visitare il vigneto Siamo sempre stati aperti E sempre lo saremo E questo è quello Che nel nostro piccolo Dà valore ai nostri vini Perché chi viene da noi Vede la vigna Vede la persona Che è in vigna Parla con chi Ha fatto il vino E il vino Gli viene raccontato Per quello che noi Viviamo tutti i giorni Quindi gli dai All'enoturista Una chiave Per percepire Il valore Che c'è Dentro quella bottiglia E quando tu glielo Fai capire Il listino È l'ultimo Dei problemi Ok Perché quando uno vede Sì ma guarda Che fatica Che fanno questi Guarda il posto Dove sono Guarda che cura hanno Nel lavorare O nel raccontarti i vini Costa 10 12 15 20 Non importa Perché il prodotto Li vale Certo Anzi molto spesso Succede il contrario Nel senso che Più di qualcuno Ci dice Solo quello Dopo tutto il racconto Dice Beh ma i vostri vini Pensavo costassero di più Ecco Questo è Un grandissimo complimento Questo per noi È importante Nel senso che Sei riuscito A far percepire Il lavoro Che c'è dietro E quando uno lo vede Se lo ricorda Finché campa Certo Altrimenti Con sorpresa Per quanto riguarda I vini Diciamo La gamma Delle etichette È già abbastanza ampia Quindi Non abbiamo Abbastanza stabile Non abbiamo Non abbiamo in programma Diciamo Di inventarci Qualche vino nuovo Se mai di lavorare Sulle selezioni Ancora di più Quello che abbiamo In testa Per il prossimo futuro Sicuramente È cercare di Migliorare ancora L'accoglienza in cantina Ok Quindi Che cos'è La cosa Che vuoi migliorare Cosa Diciamo che Abbiamo in mente Di Di ricavare Degli spazi Per poter Diciamo Fare Ospitare Gli ospiti Per le degustazioni In un modo Un pochino Più Più razionale Più anche Carino In un certo senso Noi abbiamo Una piccola Sala degustazione In cantina Che si limita Diciamo A una decina Di Una dozzina I posti No Molto semplice Ecco Vorremmo Diciamo Poter offrire Un'esperienza Di degustazione Di visita Un pochino Più Più strutturata Per questo Abbiamo in mente Uno spazio Per strutturare Una sala De degustazione Un pochino Più ampia Un pochino Più Fornita Da un certo punto Dei servizi E Proprio perché Crediamo Che il legame Del visitatore Col prodotto Sia Estremamente Più forte Quando Lo tocchi Con le mani Direttamente Quindi quando Vai in azienda E viene accolto In un certo modo Ti vengono Raccontate le cose Con una certa Una certa Professionalità Ma anche Una certa Autenticità E effettivamente Il valore Di quella bottiglia Diventa Diventa esponenziale Questo per noi È assolutamente Importante Anche perché Come dicevi tu All'inizio Quando Quando una persona Viene da noi E ha la possibilità Col calice in mano Di vedere la vigna Dove è stato prodotto Il vino È un'emozione Impagabile Certo E noi vogliamo Vogliamo valorizzare Anche questo tipo Di servizi Oppure di esperienza Per Per gli enoturisti Che Stanno crescendo In numero Secondo me Sono sempre pochi Per la qualità E per il contesto Che abbiamo Nelle nostre zone Quindi Cioè Con colline così Con vigne così Ben tenute Con prodotti Comunque così buoni Secondo me Dovremmo avere A quantomeno Il triplo di persone Che girano Nelle nostre aziende Non sto qui A analizzare Perché non è così O dare la colpa A tizio A Cazzo Sempronio Non mi interessa Però mi limito Ad analizzare Perché succede Cosa succede E effettivamente Succede così Ok Succede così E quindi Ci sarà Chi di dovere Che dovrà ragionare Su come fare A portare più persone Nelle cantine Non è il mio mestiere Io non voglio Insegnare mestiere A nessuno Però secondo me Col potenziale Che abbiamo Di autenticità Soprattutto Di piccole aziende In cui il vignaiolo È lì presente No E può trasmettere Questa energia Positiva Noi dobbiamo fare meglio Per forza Per forza Hai detto molto bene E non posso dire meglio Io Sono completamente D'accordo C'è qualcosa Che non ti ho chiesto Che volevi parlare Perché abbiamo parlato Tanto Siamo già 90 minuti Che staranno anche Aspettando per pranzo Infatti No Però abbiamo fatto Tanto Tanto argomenti Però volevo essere sicuro Che c'era Non c'era qualcosa Che volevi parlare Che non l'abbiamo No ma credo Che abbiamo parlato Ruota libera Un po' di tutto Infatti Penso che abbiamo toccato Tanti punti Secondo me È esauriente La chiacchierata Bene Bene Si vede che Ci sono dei momenti E sto parlando Mano a mano Adesso Persona a persona Quando tu sciogli E allora Mi piacciono Quei momenti Quando sei più Se stesso Allora Grazie tantissimo Alessandro Per passare Tutto questo tempo Con noi E spero di vederti Su quella bellissima Collina di Ruotars Al più presto possibile Volentieri Quando vuoi Il numero ce l'hai Assolutamente Non sarà una difficoltà Grazie tantissimo Grazie Ciao Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti